Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla PPLI per lavori di messa in sicurezza sul viadotto del Turbone, un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorettina e Montelupo Fiorentino, sempre per lavori in direzione mare, ci sono rallentamenti tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era Est. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. La viabilità cittadina a Firenze per lavori in via Panciatichi di vieti di transito sulla direttrice composta tra via Panciatichi e via dello Stecuto. Oversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!